ok allora un po' di pausa spero che vi abbia un po' fatto riprendere da diciamo così dalla dall'astrazione del ragionamento a cui siamo dovuti entrare ma a livello di codice adesso lo rianalizziamo insieme per vedere i punti salienti e eventualmente concludere risolvere altri eventuali dubbi che possiate avere e poi completiamo il calcolo della lista degli anagrammi sotto forma appunto di lista da ritornare allora se uno va a vedere il codice a cui siamo arrivati abbiamo una due tre quattro cinque, sei, sette istruzioni cioè tutto questo tutto il problema che ci ha richiesto comunque un bel po' di pensiero in un certo senso di ragionamento si è condensato in sette istruzioni di cui in realtà queste tre qui perché abbiamo voluto fare tutti i singoli passaggi per sicurezza è un po' è un po' la caratteristica della ricorsione cioè è estremamente condensata in pochissime istruzioni sono condensati tantissimi livelli di ragionamento e questo vuol dire che poi ogni singolo errore che uno fa diciamo così in queste poche istruzioni viene amplificato come si diceva prima esponenzialmente perché se sbagli un più uno o meno uno questo sballa completamente il ragionamento quindi per questo bisogna proprio andare piano piano no? dire ok quali sono le assunzioni che facciamo questa parziale parte da zero è sempre lunga quanto il livello la somma parziale più lettere deve sempre essere uguale deve sempre dare la stessa lunghezza quindi facciamo attenzione ogni volta che le modifichiamo di garantire queste proprietà quindi bisogna proprio curare una riga per volta cioè ciò che facciamo ma dopodiché il lavoro è abbastanza il risultato finale è decisamente breve ecco a me l'impressione che dà la ricorsione sempre è che nessuno fa nulla cioè alla fine in questo codice qua ma chi è che fa le permutazioni? ma dove sono? cioè dove è il codice che effettivamente calcola queste permutazioni? perché non c'è qui va semplicemente facendo una stupidaggine di andare a prendere un carattere da una stringa qui faccio una print quindi sembra quasi che la print che faccio di una soluzione parziale sia per magia arrivata già una permutazione fatta e in realtà di fatto non c'è un punto unico in cui sto costruendo la soluzione la costruisco un pezzo per volta un tentativo per volta quindi alla fine la sto costruendo qua veramente però qui faccio un'operazione è talmente banale perché è semplicemente un piccolo passo nella costruzione del problema e poi il castello della ricorsione che fa sì che questo piccolo passo venga tentato e provato in tutti i modi possibili immaginabili e questo è quello che mi dà poi la soluzione quindi quello che dicevamo prima guardando le slide l'esplorazione dello spazio delle soluzioni bella frase vuol dire in pratica che io faccio tutti i tentativi possibili in tutti i modi possibili ho un meccanismo strutturato semplice una volta capito semplice per generare tutte queste soluzioni possibili quindi io devo semplicemente concentrarmi su generare la prossima come fare a generare la prossima soluzione e metterla in questa macchinetta che mi permette di moltiplicare questa generazione per tutti i casi possibili e poi mi trovo dentro il caso terminale mi trovo già consegnate precotte le soluzioni che sono state costruite quindi questo ci permette veramente di concentrarci sull'essenza del problema e non sulla meccanica di come costruisco le soluzioni chiaramente richiede un po' per essere ovviamente digerito tutto questo ok dobbiamo ancora mettere a posto una cosa se ci sono domande ditemi se no andiamo avanti dobbiamo ancora mettere a posto una cosa che è appunto il restituire una lista di anagrammi perché io dovrei restituire una lista qui al mio chiamante al posto di questo null ma gli anagrammi che scopro li scoprirò qua sotto e attenzione che qua sotto sono annidato sotto tanti livelli di ricorsione e questo vuole anche dire che io non posso semplicemente fare un return parziale da qua ma uno dice vabbè qui hai trovato la soluzione allora restituiscila e no perché questo return qui non ritorna a questa funzione sembra qua di qui sono dentro permuta ritorno un valore e ritorno da qua invece no perché in realtà questa permuta qui ne chiamo un'altra permuta che ne chiamo un'altra che ne chiamo un'altra che ne chiamo un'altra quindi questo return che facessi qua sotto ritornerebbe di un livello solo a livello precedente e a livello precedente non sa che cosa farsi di questa soluzione quindi io devo avere un luogo ok in cui salvare queste soluzioni parziali in modo che la funzione principale le sappia dove trovarle e beh allora a questo punto è facile nel senso che io basta che mi costruisca una lista di string qua string risultato uguale new array list ad esempio vuota e ti passo anche qua come argomento aggiuntivo un riferimento a questo risultato e quindi questo risultato dovrà essere un parametro in più che è una lista di string che che verrà usato nella funzione nel caso terminale ad aggiungere punto add la soluzione parziale che finalmente ho trovato che a questo punto è diventata una soluzione completa ovviamente devo ricordarmi anche qua quando faccio la chiamata ricorsiva di passare questo nuovo parametro risultato quindi ho un parametro in più che è relativo a che cosa è relativo all'array list che conterrà l'elenco di tutte le stringhe che è ciò che io restituirò al mio chiamante e quindi dentro la funzione permuta annidata sotto n livelli di ricorsione a un certo punto arriverò al caso terminale e quando ho trovato il caso terminale aggiungo a un array list che non ho fatto io ovviamente la funzione permuta non ha costruito lei questo array list ma l'ha costruito tanti livelli sopra di essa la funzione anagrammi e io il riferimento a questo array list me lo sono passato di funzione in funzione di funzione in funzione bucando tutti i livelli della ricorsione fino ad arrivare finalmente all'unico livello che aveva qualcosa da aggiungerci questo risultato non viene toccato in nessun altro punto della funzione ricorsiva questo è il modo più pulito ok un altro modo potrebbe essere quello di definire questo array list qua direttamente nella classe a livello della classe qui ovviamente lo devo inizializzare a vuoto e questo modo potrei fare questo risultato punto add senza dover aggiungere questo parametro in tutte le chiamate ricorsive perché questo variabile sarebbe visibile direttamente della funzione permuta perché definito all'interno della classe a livello distanza della classe ok è un pochino più comodo perché non mi devo portare avanti tutte queste strutture dati che me le copio di procedure di chiamata in chiamata di chiamata in chiamata solamente per averle nel caso terminale è un pochino meno strutturato perché a questo punto hai una variabile qua a livello di classe e quindi vuol dire che questa procedura ricorsiva sta agendo tra virgolette toccando delle variabili esterne ad essa quindi potenzialmente devo farci più attenzione però è indifferente essenzialmente l'importante è che ci sia una struttura dati in questo caso l'abbiamo passata come parametro che è la soluzione più pulita anche se un pochino più macchinosa una variabile che il chiamante tra la procedura l'interfaccia pubblica prima che abbiamo chiamata ha preparato questa variabile nella quale la procedura ricorsiva va a depositare i risultati che vengono via via trovati e quindi questo ci permette anche di andare sul test anagramma e avere una lista di stringhe risultato o anagrammi chiamiamolo e quindi possiamo dire che anagrammi sia prima l'anagrammi di dog quindi posso stampare questa e poi può essere gli anagrammi di 5 e la ristampiamo come anagrammi di 5 ok e quindi facendo un run è tutto più pulito perché a questo punto ovviamente il risultato viene calcolato dalla procedura ricorsiva ma poi se vuole lo stampa il main lo stampa il chiamante come abbiamo già imparato a fare perché poi molte volte il valore andrà usato stampato dal controller della nostra applicazione quindi non è la procedura ricorsiva che deve stampare o mettere un risultato semplicemente calcolare il risultato restituirlo sotto forma di struttura dati java di collection java e poi sarà il chiamante che decide che cosa farsene Mario mi sta chiedendo conviene avere un metodo che ritorna void quindi immagino su questo discorso qua del risultato un metodo che ritorna void e che riceve la lista result e la soluzione o è meglio avere un metodo che ritorna direttamente la lista che viene istanziata dentro il metodo no non funziona nel senso che qui dentro tu non puoi fare un risultato uguale a un new array list perché avresti immagina di avere gli 6 diagrammi di dog tu non vuoi 6 array list diversi che sono istanziati ciascuno dentro un singolo caro terminale vuoi un unico array list che li contenga tutti e 6 quindi la creazione della lista deve essere esterna alla funzione ricorsiva ok quindi al limite questa funzione permuta potrebbe ritornare un array list che ottiene o meglio no ritornare una singola stringa però poi queste singole stringhe questa permuta qua dovrebbe in questo ciclo for dovrebbero essere concatenate aggiunte in un array list che comunque deve essere passato dall'alto cioè non vedo nessun modo in cui si possa creare la lista da dentro questo è il problema che in teoria prima chiamavamo la ricombinazione dei risultati cioè dov'è che faccio dov'è che metto insieme questi risultati li posso mettere insieme o così come abbiamo fatto dove siamo scusate o così cioè ho una struttura data in cui via via li parcheggio ma perché in questo caso si tratta semplicemente di salvarli perché sono stati trovati direttamente nel caso terminale altrimenti dovrei fare qualcosa qua ad esempio qui avrei una soluzione che sarebbe già una lista parziale e allora dovrei poi fare l'unione di questa lista parziale senza attenzione sono dentro un ciclo for e quindi ogni 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 chiamata permuta mi dà una lista e poi tutte queste liste a loro volta le devo mettere insieme lo potrei anche fare però mi pare più complicato perché vuol dire che crea una lista con un elemento poi queste liste vengono prendiamo il caso del dog fatemi rimettere questo slide crea una lista con un elemento qua poi crea un'altra lista con un altro elemento qua poi qui crea una nuova lista che mette insieme questo elemento una nuova lista che poi questo lo potrei risparmiare questa nuova lista ma come caso generale mette insieme questo elemento poi qui creerei un'altra nuova lista che mette insieme queste due liste a noi sembrano due elementi ma in generale potrebbero essere due liste perché a questo livello qua io avrò poi una lista di due una lista di due e creare una nuova lista che ne mette insieme quattro questa qua ritorna un'rlist questa ritorna un'altra ritorna un'rlist e questo crea un'rlist in cui li concateno non tutti e due in realtà tutti e tre questi non sono quattro sono sei perché ci sono anche questi altri due che sono in quest'altra ritorna si può fare ma ovviamente ma mi sembra molto più macchinoso perché crea e distrugge crea e distrugge moltissime liste quando in realtà quella che ci serve è solamente questa ok quindi dipende dai casi in questo caso qui in cui di fatto devo semplicemente quando sono nel credo terminale sono già nelle condizioni di aggiungere alla soluzione totale un elemento faccio così questo meccanismo che mi suggeriva Mario aveva senso ma ha senso in generale soprattutto quando a questi livelli qua ci devo fare delle elaborazioni quindi magari non basta semplicemente mettere insieme ma magari che adesso devo trovare la più lunga o la più breve oppure eliminare i duplicati allora lì sì dove devo quando ricombino le soluzioni ci devo fare ci devo mettere dell'intelligenza allora ha senso fare questo ognuno ritorna le sue soluzioni e il padre la funzione del chiamante le mette insieme ragionandoci facendo dei confronti opportuni mentre invece semplicemente per salvarle mi sembra molto più comodo fare così però ovviamente sono tutte soluzioni possibili non ce ne è solo dal punto di vista della comodità e anche tutto sommato un po' della velocità perché non vado a creare tantissimi oggetti che poi butterò via ok poi c'è una domanda di C che mi dice mi chiede se il backtracking potrebbe sostituire il for no 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 il backtracking è comunque dentro il for cioè questo for scusate rimetto solo a posto questa cosa qui e questa cosa qui il backtracking è dentro il for e permette fa in modo che quando io faccio le varie iterazioni del for ciascuna iterazione parte dalla soluzione pulita ok se io non avessi questo ciclo for per assurdo non servirebbe il backtracking nel fattoriale non serviva perché avevo solamente una chiamata ricorsiva partendo da ogni da ogni da ogni da ogni funzione ne chiamavo una sola il backtracking serve proprio per questo se ma lo vediamo secondo me quando vediamo per esempio un peggio più complicati dove la soluzione parziale non sia una stringa le stringhe sono molto particolari in java perché sono immutabili quindi ogni volta sono obbligato a costruire una nuova e quindi di fatto non esiste backtracking ok se avesse una lista in cui aggiungo un elemento allora subito dopo lo vado a ritogliere però il backtracking serve proprio perché sono dentro un ciclo for ok proprio perché faccio tanti tentativi diversi e voglio che ogni tentativo riparta dalle stesse condizioni di partenza del tentativo precedente Mario mi dice di solito conviene sempre iniettare all'inizio la soluzione vuota ho sempre difficoltà a rispondere di sì o di no a delle domande generali perché di solito dipende dai casi in problemi di questo genere in cui devo semplicemente accumulare soluzioni creo una lista vuota e poi via via riempio però devo ragionarsi di caso in caso se non devo farci nulla è forse il caso più comodo ho cancellato la chiamata di permuta ah sì sì stupido grazie pensavo di solo di aver cancellato questa parte qui invece grazie era molto più molto più veloce senza la chiamata ricorsiva ok se vogliessimo un pelino ragionare sul caso reale degli anagrammi sarebbe ancora più complicato di questo sarebbe più complicato di questo perché in realtà un anagramma innanzitutto deve essere una parola valida ok quindi una parola che esiste non parole non qualunque ammasso di lettere permutate allora come facciamo a verificare se cioè se mi dicono genera tutte le permutazioni delle lettere va benissimo ma se mi dicono genera gli anagrammi validi che ne sono in italiano in inglese e dovrei verificarlo relativamente a un dizionario allora vabbè questo concettualmente è molto facile avete fatto nel laboratorio ho un elenco di parole di queste devo trovare quelle che sono valide e invece ignorare le altre ok dove lo faccio dove lo faccio nel codice allora potrei farlo in tre posti qui cioè faccio in modo che la funzione permuta mi calcoli il risultato con tutte le parole e poi questa lista prima di fare la return cancella dalla lista le parole non valide leggendo il dizionario quindi già che visto che la ricorsione è complicata diamogli un lavoro più semplice da fare trovami tutte le permutazioni poi se alcune di queste non sono valide sono da ripulire eccetera vabbè ci penso poi io dopo tu il problema tosto me lo risolvi tu me lo risolvi un problema che ti ho semplificato e poi dopo me lo vado ad aggiustare dopo questa è una possibilità seconda possibilità questo controllo lo faccio nel caso terminale quindi qui aggiungerò if parziale è una parola valida allora aggiungi il risultato questo vuol dire allora innanzitutto sembra un pochino più efficiente perché non aggiungo una parola a una lista per poi andare a riprendere in mano la lista e poi cancellare eventualmente cancellare quella parola lo stesso controllo che facevo qui lo faccio in realtà dentro la ricorsione quindi evito di aggiungere qualche cosa che so che poi dovrò cancellare quindi logicamente forse è meglio scriverlo qua questo controllo chiaramente si complica un pochino perché devo a questo punto dare alla funzione ricorsiva anche l'accesso al dizionario e a un metodo per controllare se la parola è presente nel dizionario eccetera eccetera quindi complica un pochino il caso terminale qua dentro conviene magari mettere a disposizione un altro metodo privato che va semplicemente a fare questo controllo quindi questa if qua diventa una chiamata a un metodo privato che fa il controllo per non complicare troppo il codice che c'è dentro la procedura ricorsiva ovviamente sempre che la classe anagrammi in particolare la funzione anagrammi in particolare la funzione permuta possa avere il riferimento accesso al dizionario che sto usando quindi devo decidere di passare questa variabile in modo che sia visibile dall'interno di questa funzione altrimenti lo farò ai livelli superiori dal punto di vista dell'efficienza non è che cambi un granché perché tanto il grosso del lavoro l'ho fatto per arrivare qui per arrivare al caso terminale poi aggiungere un elemento in una lista poi toglierlo subito dopo sì è un po' brutto è uno spreco di tempo ma è uno spreco di tempo lineare cioè vado a a considerare elementi uno per uno e comunque il l'operazione complessa è che è quella di cercare un dizionario in realtà la faccio comunque lo stesso numero di volte cioè ogni volta che ho una potenziale soluzione parziale cerco il dizionario l'operazione complicata è cercare il dizionario non è aggiungere o non aggiungere o cancellare l'elemento della lista quindi dal punto di vista del tempo di esecuzione avere questo controllo qui o avere questo controllo qui è praticamente lo stesso c'è poi una terza soluzione che è indicata qua che durante la ricorsione controlliamo se il prefisso esiste nel dizionario cosa vuol dire? vuol dire che qua sto stuendo delle soluzioni parziali e poi faccio ricorsione ma può darsi che questa soluzione parziale sia una soluzione del tipo AQZ e poi ho ancora magari delle lettere da mettere insieme che sono ancora molte lettere quindi avrò ancora molti livelli di ricorsione da esplorare ma nessuna ma sono sicuro che tutti questi livelli che dovrò esplorare mi daranno una soluzione non valida perché nessuna delle parole nel dizionario inizia con AQZ almeno nel dizionario italiano ma neanche in quello inglese allora io potrei controllare se diciamo così qua se la nuova parziale è un prefisso valido di almeno una parola nel dizionario cioè c'è almeno una parola che inizia con queste lettere o un prefisso eh io non devo dire che sia una parola completa lì dentro cioè se fosse ad esempio AQZ devo dire no però se fosse car che in italiano non esiste come parola devo dire sì perché esiste carro esiste carrello esiste carta eccetera eccetera tante parole che iniziano con quelle tre lettere e quindi devo andare avanti e fare ricorsione cercare di aggiungere altre lettere a quelle che ci sono già finora nella soluzione parziale allora questo sarebbe un vantaggio molto forte perché io magari bloccando la ricorsione quando vedo delle combinazioni di lettere che comunque non hanno speranza di arrivare in fondo taglio via con un solo controllo taglio via un intero albero della ricorsione purché questo controllo sul prefisso non sia troppo lento perché chiaramente trovare un prefisso in un dizionario significa comunque andarsi a cercare tutte le parole fare una ricerca comunque lineare perché non posso oppure una ricerca a intervalli è un algoritmo mica banale dovrei controllare tutte le stringhe vedere se c'è una sottostringa esistente eccetera eccetera quindi qui dovrò poi valutare in teoria dovrei fare delle prove se mi conviene bloccare il prima possibile la ricorsione quando vedo una soluzione parziale che posso già prevedere che non porterà soluzioni totali oppure se questo calcolo questa stima di non validità non mi costa troppo da calcolare se invece mi costasse troppo calcolare questo allora potrei dire sì lo so mi potrei anche fermare qui ma sarebbe troppo complicato o troppo lento da scoprire in questo momento e quindi vado avanti lo stesso lo scoprirò più avanti poi potrei anche avere delle vie di mezzo per carità uno può fare qua una funzione che magari va solamente a controllare i primi tre caratteri quindi faccio una preelaborazione nel dizionario solamente delle prime tre lettere e quindi al quarto il quinto carattere non lo controllo più qui c'è un intero infinito di possibilità che serve per tagliare per in gergo diciamo potare visto che la ricorsione ha fatto un albero io poto via dei grammi però devo scoprire se il punto in cui sto per potare è effettivamente un punto che mi garantisce che non mi porterà soluzioni valide nel futuro e allora vuol dire che ad ogni punto prima di fare la ricorsione devo fare dei controlli in più quindi le possibilità sono tre quando non tutte le soluzioni sono ugualmente valide le calcolo tutte e le butto via dopo nel momento che ne ho trovata una verifico che sia valida oppure terza possibilità se conviene se riesco se non è troppo complicato man mano che le genero cerco di fermarmi quando mi accorgo che sto andando in un insieme di soluzioni in un insieme di possibilità di soluzioni parziali diciamo così che non sono valide che garantiscono che tutte le soluzioni complete che dovessi trovare sarebbero non valide Michele mi chiede cosa devo fare per scegliere una strada oppure l'altra devo valutare sia la complessità che anche proprio il tempo di implementazione il tempo di esecuzione perché magari una cosa è una complessità lineare ma lineare vuol dire più lento più veloce devo anche capire quanto è ampio l'albero di ricorsione quanto è profondo quanto riesco a tagliare è un lavoro che si fa spesso appunto non dico per tentativi ma empiricamente si prova a valutare l'approccio che io seguirei è sempre lo stesso parto da una soluzione che funziona e la complico il meno possibile quando mi accorgo che questa soluzione se funziona bene è troppo lenta allora cerco di andare a capire dove posso tagliare dove posso recuperare è chiaro che recuperare qualcosa qui significa andare a recuperare un intero sottoalbero ricordate il discorso di Fugonacci di prima ma perché rifaccio queste operazioni che so già che non mi portano niente di nuovo in quel caso mi portavano una soluzione che già conoscevo qui mi portano proprio parole che dovrò buttare via allora è chiaro perché il punto in cui potenzialmente guadagno di più è questo perché mi dà un guadagno che si moltiplica per tutti i nodi dell'albero qua invece è un guadagno che si moltiplica solo per tutte le foglie dell'albero solo per tutte le soluzioni terminali che sono meno della metà però come dicevo non c'era la risposta generale trovare un prefisso se una stringa è un prefisso di un dizionario di 800.000 parole comunque significa fare una ricerca lineare su 800.000 parole oppure trovare un metodo simil dicotomico che non è impossibile si può fare anzi si fa così in modo da cercare la prima e l'ultima parola che iniziano con quelle lettere e vedere se ce n'è almeno una in mezzo se questa distanza tra la prima parola che sia minore uguale a questa e la prima parola che sia maggiore uguale se questa distanza tra questo minimo e massimo trovare l'intervallo in cui possono essere queste quindi sono variazioni le ricerche dicotomiche però dobbiamo fare attenzione sui minore uguali per cercare della parte giusta quindi in questo caso si complica non sono due righe di codice rischia di essere più lunga questa funzione che controlla il prefisso che non tutto il resto della ricorsione ma è così il nucleo della ricorsione è sempre molto piccolo le funzioni ancillare accessore per preparare modificare strutture dati fare ricombinazione e fare le potature dell'albero sono di solito più complicate perché lavorano proprio sul cuore del problema altre cose che potremmo fare ragionando per passare dalla ricorsione pura agli anagrammi è cosa capita se ci sono delle parole che hanno più lettere al loro interno in cui la stessa lettera è ripetuta e pensate a questa parola i mari c'è due volte la S allora io posso pensare se applico l'algoritmo così com'è mi dice che queste due parole sono due anagrammi diversi io poi le S le ho colorate in modo diverso perché in realtà questa qua la prima quella rossa è quella in posizione 0 e quella blu è quella in posizione 0, 1, 2, 3 e quindi lui mi ha fatto l'anagramma in cui c'è 0 3 e l'anagramma in cui c'è 3 0 e in questo caso per lui sono due parole diverse perché noi lavoravamo su pose vi ricordate che avevamo pose uguale 0 1, 2, 3 c'è il ciclo for prendo la prima lettera prendo l'ultima l'algoritmo dicevamo prima va avanti alla cieca quindi non si è neanche accorto che sta prendendo un'altra lettera che casualmente è uguale a una precedente non si è accorto e quindi mi ha generato due permutazioni diverse che fanno sì che perché però il cui la stringa è uguale come posso fare in questo caso a evitare questo problema anche qua ho due strade la prima strada ma chi se frega io le genero tutte poi le metto in un set che mi elimini i duplicati alla fine della ricorsione vorrà dire che alla fine anziché mettere in una lista li metto in un set e il set automaticamente mi elimina i duplicati e non ci penso più quindi delego a una struttura dati l'individuazione degli eventuali duplicati e quindi non modifico il codice di fatto devo modificare una riga di codice scrivere set anziché list oppure faccio attenzione a non generare queste situazioni chiaro che se queste situazioni fossero molte quindi se io avessi delle parole tipo non so A A A B B B C C C allora avrei sei combinazioni sei permutazioni di queste A per sei permutazioni di queste B per sei permutazioni di queste C fa sei per sei per sei casi 200 erotti quanto fa quindi ogni parola viene ripetuta sei per sei per sei volte inutilmente e poi deve essere buttata via allora questo qui oltre all'inutilità porta anche via tempo vuol dire che lui è sei al cubo volte più lento di quanto non potrebbe essere se evitasse di fare queste ripetizioni allora se nei termini che devo permutare effettivamente questo problema accade più volte o è significativo allora potrebbe valere la pena di bloccare la ricorsione prima come? eh boh facendo in modo di distinguere anche dentro il codice che una la S che vale zero sia diversa dall'S che valga tre e quindi devo fare in modo che se ho già messo una S non metto la seconda risolvere nel caso generale non è semplicissimo perché una lettera potrebbe anche comparire tre volte quindi non posso solo dire se c'è già non la metto più perché in realtà magari devo mettere due non metto la terza quindi non è banale ecco ve lo lascio così non risolviamo non ci pensiamo però è un problema un grattacapo che essenzialmente conviene non risolvere con le stringhe ma conviene farsi una lista di una struttura dati che contenga S sono la prima S sono la seconda S e così via sì avere un insieme di char ma forse neanche char ma oggettini che contengono dentro un char e un numero per distinguere se è il primo se è il secondo se è il terzo o cose di questo genere il risultato con temps parziale aggiungo non andrebbe bene per risolvere questo problema fammici riflettere tu stai dicendo quindi stai dicendo se il risultato totale ah no qui certo che lo può risolvere certo alla riga 28 se Giovanni stai pensando alla riga 28 sì sicuramente nel senso che prima di aggiungerlo verifico che non ci sia però usare un content su una lista è molto meno efficiente che usare un set perché ricordate che il set verifica i duplicati usando la funzione di hash e quindi lavora in tempo costante istantaneo praticamente mentre contents si scandisce tutti gli elementi della lista quindi in questo caso io preferirei fare un add in un set piuttosto che un controllo di contents su una lista perché se questa lista diventa lunga allora sto rallentando inutilmente il programma ovviamente se la lista diventa lunga se la lista so che è di 10 parole non me ne frega niente la differenza allora magari conviene la lista che non la funzione di hash in questo caso è un modo per evitare che vada a finire nel risultato una parola che c'è già però il modo difficile è quello invece proprio di evitare di generare queste soluzioni quindi qua questo ciclo for le genera tutte alla cieca noi dovremmo rendere questo ciclo più intelligente in modo che non le generi alla cieca e questo non è per nulla banale proprio a livello di codice quindi abbiamo molto spazio qua di ragionamento di libertà faccio una cosa nel caso terminale la faccio prima della permutazione la faccio nella generazione cioè prima della chiamata ricorsiva la faccio nella generazione delle soluzioni e dipende veramente dal problema e dipende poi dall'idea che abbiamo l'unico consiglio che continuo a ripetervi e continuo a darvi è partiamo da una soluzione semplice perché se ci poniamo dall'inizio tutti questi problemi no, veramente non riusciamo più rischiamo di di non riuscire poi a a completare diciamo una versione che funzioni ok vi propongo un altro esempio che è questo che sembra difficile ma è facile no, immaginiamo di avere lo impostiamo perché chiaramente non riusciremmo a finirlo tutto però almeno ci cominciate a pensare una scacchiera 8 per 8 o in generale n per n ok quindi la classica scacchiera sarà 8 per 8 in cui vogliamo posizionare n regine quindi su una scacchiera degli scacchi di dimensione 8 per 8 voglio mettere 8 regine vabbè facile mettere 8 ma le devo mettere in modo che nessuna mangi nessun'altra e quindi ad esempio vedere questa regina qua potrebbe attaccare in verticale in orizzontale o in diagonale ma non trova mai nessun'altra regina da mangiare e così via ciascuna regina rispetto alle altre è posta in una posizione che non si trova mai né sulla stessa riga né sulla stessa colonna né sulla stessa diagonale sembra un po' che cioè di fatto sono messe un po' a mossa del cavallo ecco però questa è un'impressione che abbiamo così a occhio poi in realtà la regola generale su come metterle adesso in realtà non è facile qui ne ho messo 1,2,3,4,5 ne dovrei ancora aggiungere questa scacchiera da 8 ne dovrei ancora aggiungere 3 e no la scacchiera da quant'è? 1,2,3,4,5,6 è da 7 questa che ho disegnato scusate sulla slide è disegnata da 7 quindi devo ancora aggiungere 2 vabbè so che questa dovrò aggiungere per forza sulla prima riga e questa sull'ultima però questa potrebbe essere prima riga prima colonna la posso mettere qui non lo so no perché viene mangiata da questa e quindi non lo so serve un algoritmo che le trovi a occhio così se volete usarlo come rompicapo serale bene altrimenti fate prima probabilmente scrivere un algoritmo ok allora questo sembra complicato perché c'è la matrice quadrata eccetera eccetera ma in realtà è molto semplice la rappresentazione di questa soluzione perché io posso pensare di avere semplicemente la mia soluzione parziale che sia un array di n elementi che rappresenta le righe e ogni elemento di questa array rappresenta la colonna su cui voglio mettere una regina di quella riga lì quindi io potrei avere che ne so tre uno questo vuol dire che nella mia scacchiera alla riga zero ho la regina nella colonna tre alla riga uno ho la regina nella colonna uno e così via quindi questa qua è una regina messa nella riga zero colonna tre questa nella riga uno colonna uno cioè tengo già conto del fatto che le regine dovranno essere per forza una su ogni riga quindi non ho bisogno di memorizzare o analizzare l'intera scacchiera ok ora ho la tabella da otto righe ok la prima regina va nella prima riga in quale colonna la metto e questa è la mia domanda una volta che ho messo una regina nella prima riga e quindi ho scelto la colonna e scegliere attenzione nel mondo ricorsivo scegliere vuol dire provarle tutte provarle nella prima poi nella seconda poi nella terza poi nella quarta una volta che ho scelto cioè ho provato a mettere una posizione dove metto la regina sulla seconda riga sulla riga all'indice uno è nella colonna zero nella colonna uno nella colonna due nella colonna tre e così via allora provo le provo tutte le provo tutte ovviamente purché siano compatibili con la posizione delle regine che sono già state messe quindi quando cerco di aggiungere di generare tutte le soluzioni possibili devo solamente generare quelle che non vengono mangiate dalle regine precedenti quindi non sono sulla stessa riga non sono per costruzione perché ne sto mettendo una per riga ma non sono sulla stessa colonna e non sono sulla stessa diagonale quindi dovrò andare a controllare ciascuna di queste regine se è sulla stessa riga o sulla stessa colonna o sulla stessa diagonale se il tentativo che sto per fare colonna cinque è valido nel senso che nessuna delle regine precedenti è già messa sulla colonna cinque e nessuna delle regine precedenti mi può mangiare in diagonale destra o in diagonale sinistra se io mi mettesse nella colonna cinque allora provo a mettere la colonna della riga tre della riga di inge due quindi la terza riga nella colonna cinque e così vado avanti molto spesso mi troverò bloccato cioè mi troverò a un certo punto dopo aver messo quattro cinque regine che non riesco più a metterne altre perché non c'è nessuna delle otto colonne possibili delle n colonne possibili che mi rispetti tutte le condizioni e allora vorrà dire che questa ricorsione non arriva al caso terminale non arriva in fondo è obbligata ad abbandonare la strada per mancanza di soluzioni valide allora qui sì ha senso verificare la validità delle soluzioni man mano che le creo non ha senso mettere tutte le regine a caso che sarebbero otto elevato a otto come numero mi dà un po' di disagio e poi dopo buttare via quelle che in cui ci sono le regine che si mangiano le posiziono sono solo già nelle posizioni costruisco delle soluzioni parziali che per costruzione siano valide e quindi non aggiungo una regina se so già che non è una posizione valida sulla base di quelle precedenti su quelle future non lo so quindi in molti casi la ricorsione non arriverà in fondo perché non troverò più nulla in alcuni casi arriverà in fondo e se arriva in fondo sono fortunato perché ho trovato una soluzione ho trovato una soluzione e può darsi che mi basti quella soluzione lì oppure come abbiamo fatto con gli anagrammi me la salvo e poi ne costruirò delle altre ok quindi solo a livello di impostazione giusto per magari condividere quella che è la rappresentazione del problema poi vi lascio divertire invece a provare a risolverlo proviamo a fare un nuovo progetto e lo chiamiamo il progetto sempre TDP lo chiamiamo del Regine dove anche qua ci chiamiamo il Package Model e dentro il Package Model ci mettiamo una classe Regine ok dove la nostra ricorsione come funziona abbiamo già capito che la ricorsione sarà quasi sempre una funzione private void cerca diciamo in cui diciamo che N è il numero di righe e colonne della scacchiera poi ad ogni livello posizioniamo una una regina in una nuova riga quindi allora le righe e le colonne diciamolo solo sono numerate da 0 a N meno 1 no? come negli array e quindi noi abbiamo una soluzione parziale che sarà una lista delle colonne in cui mettere le regine per le prime righe il livello mi dice quante righe sono già piene quindi vuol dire livello uguale 0 nessuna riga piena quindi devo metterla la regina nella riga 0 quando ho livello uguale 3 ad esempio vuol dire che ho già tre righe piene che sono la 0 la 1 la 2 e quindi devo mettere la regina nella riga 3 quindi in qualche modo il livello mi dice già due cose quante regine ho già ma contemporaneamente mi dice anche il numero della riga da riempire e quindi questa procedura ricerca di che cosa avrà bisogno avrà bisogno praticamente di una lista di interi è una lista semplicemente di numeri interi quindi la chiamiamo list di integra a questa soluzione parziale che è la soluzione parziale sarà una lista che parte da 0 elementi via via ne aggiungiamo e poi il livello scusate inter livello a cui sono arrivato inizialmente questa lista sarà così non contiene niente poi provo a mettere la prima regina nella prima colonna poi facendo ricorsione al secondo livello della ricorsione avrò già una soluzione parziale che contiene la prima regina nella prima colonna e provo a mettere la seconda regina nella prima colonna no non posso perché avrebbe mangiata nella seconda colonna non posso neanche perché avrebbe mangiata in diagonale nella terza colonna potrei provare a livello 1 a questo punto posso fare una chiamata a livello 2 in cui parto da già da 0 2 e mi chiedo dove posso mettere la prossima regina la posso mettere in 0 no la posso mettere in 1 sì perché sono due caselle sotto uno a destra non mi viene mangiato quindi potrebbe essere 1 e così via quindi man mano che scendo questa lista di soluzioni parziali cresce cresce solamente se sto considerando cresce solamente se ho trovato almeno una colonna in cui questa regina può essere messa sulla riga livello senza essere mangiata da tutte le regine delle righe tra 0 e livello meno 1 questa è l'idea di partenza come interfaccia dovrebbe bastare questa cosa qua e poi vabbè al limite ci aggiungete qualche cosa per salvarvi le soluzioni una volta che avete trovato il caso terminale se le volete trovare tutte altrimenti ne salvate una sola la prima che trovate e poi trovate il modo di uscire da n livelli di ricorsione anni dati quindi questo è semplicemente l'interfaccia di questa funzione di ricerca dovremmo avere il caso terminale semplicissimo se livello n cioè ho già riempito n righe quindi sono nel caso terminale altrimenti sono nel caso normale e quindi vado a considerare tutte le colonne chiaramente da 0 a n e dove il cuore di tutto sarà controlla se la mossa nella casella livello come riga e colonna come colonna è valida se sì fai ricorsione se sì aggiungi a parziale e fai ricorsione è quasi tutto oh perdono non ero non ero non ero è quasi tutto diciamo così conseguenza dell'idea che abbiamo avuto di codificare la soluzione parziale come una lista di interi contenendo una regina per riga allora io vi lascio questo a bozza come inizio del ragionamento così ci potete ragionare poi la prossima volta lo riprendiamo e vediamo insieme la soluzione la prossima volta che sarà a questo punto già dopo le vacanze perché mercoledì se non sbaglio andiamo ancora avanti con l'esercizio della settimana precedente ma questo sappiamo che richiede un po' di tempo e quindi vi lascio il modo di pensare a questo esercizio e poi se volete me ne trovate un altro semplice di nuovo sulle slide che è quello del domino in cui avete una certa serie di pedine del domino e cercate di metterle in fila in modo che ciascuna pedina inizi con lo stesso numero con cui termina quella precedente questo è un altro tipo di permutazioni vincolate quindi devo mettere in ordine diverso ma soggetto a un certo vincolo di adiacenza sono tutti problemi classici che ci permettono semplici da capire ma ci permettono di entrare nel meccanismo della ricorsione io qua mi fermerei di materiale come dicevo di codici ne abbiamo scritto poco ma di ragionamento ne abbiamo fatto tanto e questo è un pochino il tema della ricorsione principalmente quindi vi lascio se avete dei dubbi dei problemi ci fate sapere in asincrono attraverso Telegram e vi saluto fino alla prossima lezione mercoledì ci sarà Alberto quindi io vi auguro buone vacanze di Pasqua e buon riposo e buoni esercizi con la ricorsione se avete tempo di dedicarvi grazie a tutti e per oggi è tutto grazie grazie a tutti grazie a tutti